Parola che sembra modernissima, satellite, è una parola etrusca che significava guardia del corpo. I potenti avevano le proprie guardie del corpo che gli giravano continuamente attorno, gli stavano appresso. Chiunque vede in televisione dei servizi sugli uomini politici tendenzialmente di governo hanno intorno un sacco di guardie del corpo che gli stanno appresso come dei satelliti. In questo senso il termine potrebbe essere addirittura dispregiativo, il tale è un satellite dell'altro. Poi il significato astronomico viene con la scoperta dei satelliti, ma che lui chiama pianeti medicei, di Galileo intorno a Giove. Dopodiché Keplero li chiama satellite, cioè le guardie del corpo di Giove scoperte da Galileo che accettò che questa definizione poteva andare bene e da ciò quindi satellitare, satellite, ma in fin dei conti guardia del corpo.